I borghi storici avranno un senso e un futuro se continueranno ad essere vissuti, abitati oltre che visitati. Diversamente saranno contenitori vuoti e senza anima. La sfida oggi più che mai è di utilizzare la tecnologia come la buona architettura per fare convivere passata e presente l'esigenza della conservazione con quella della vivibilità. E' questo il monito che la città di Gubbio oggi ha lanciato dalla sala trecentesca di Palazzo Pretorio nel convegno Il Tesoro d'Italia, la rigenerazione dei centri e dei borghi storici promosso dal Comune, dalla Fondazione Umbra per l'architettura Galeazzo Alessi dall'Ordine degli Architetti e quello degli Ingegneri della provincia di Perugia. Non c'era tra i relatori l'atteso giornalista Sergio Rizzo mentre hanno relazionato sul tema Mario Abis, coordinatore del Piano Città presso la Presidenza del Consiglio e Leopoldo Freire, presidente della Fondazione Umbra per l'architettura. Ospite l'assessore regionale alla riqualificazione urbana Giuseppe Chianella e nella seconda parte della mattinata l'onorevole Ermete Realacci in qualità di presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Lavori Pubblici della Camera. L'apertura dei lavori da parte del sindaco Filippo Stirati che ha sottolineato l'involontaria quanto mai proficua concomitanza di questo convegno con gli eventi sismici della Valnerina degli ultimi giorni proficua laddove momenti di riflessione come questo di oggi a Gubbio servano a lanciare indicazioni importanti per la rinascita di borghi e paesi storici completamente distrutti. In zone infatti dalle caratteristiche morfologiche affascinanti quanto complesse da vivere già prima del terremoto poco densamente popolate il rischio reale dopo il sisma e durante una ricostruzione che sarà complessa e lunga è lo spopolamento, ovvero il vero e proprio nemico dei borghi storici e della loro sopravvivenza come simbolo identitario e culla della cultura nostrana. Io credo siamo tutti impegnati perché questi borghi devono essere ricostruiti devono essere rivissuti dai propri abitanti, dai propri cittadini perché questi borghi, questi paesi, queste città, piccole città rappresentano storia e cultura della nostra Umbria. C'è un impegno del governo a ricostruire tutto, bisogna farlo in maniera intelligente cominciando dalle cose essenziali, per esempio è fondamentale che riprendano le attività economiche perché è chiaro che le cose che lei diceva che condivido totalmente non stanno in piedi se non c'è un'economia un'economia che è fatta non solo ovviamente di turismo ma anche di agricoltura di qualità è fatta di manifattura, in quelle zone ci sono anche imprese piccole e neanche tanto piccole che dialogano con il mondo. Non solo terremoto tuttavia nella discussione dei convegnisti ma anche la necessità di una legislazione che sostenga iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione dei borghi. Su questo argomento è già in atto una proposta di legge, misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni che tra le sue finalità ha quella della riutilizzazione e gestione del patrimonio edilizio. Gubbio in questo contesto forte di una cultura connotata dal grande urbanista Giovanni Astengo si è candidata a comune capofila per soluzioni capaci di camminare in equilibrio sul difficile filo che sta tra la conservazione da un lato e la rifunzionalizzazione dall'altro dell'edilizia storica. Dobbiamo lavorare per un centro storico che sia vivo, vissuto contro ogni forma di imbalsamazione come giustamente è stato sottolineato e questo significa appunto fare non solo operazioni urbanistiche ma anche sociali, culturali, operazioni legate all'artigianato, al commercio, alla mobilità cioè fare di un centro storico un luogo che sia veramente nella storia.